La Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione e Comune di Fano sull'assetto delle strutture ospedaliere dopo la realizzazione del nuovo ospedale. Con la sottoscrizione del documento, Comune e Regione chiariscono il futuro assetto dell'offerta sanitaria nel territorio. L'ospedale Santa Croce di Fano continuerà ad essere uno stabilimento degli ospedali riuniti Marche Nord e a svolgere funzioni sanitarie integrate con la nuova struttura in grado di erogare attività soprattutto di tipo chirurgico. Tra gli obiettivi rientrano anche quello di ridurre la mobilità passiva verso altre regioni e migliorare le performance sanitarie ed economiche. Inoltre verranno riqualificati i servizi sanitari nel territorio provinciale senza aumentare la spesa né ridurre la quota per la sanità pubblica a favore dell'incremento di occupati. Il Comune cederà per la realizzazione della nuova struttura il terreno. La Regione garantirà la disponibilità dei relativi posti letto ospedalieri e istituirà a Fano, in deroga al piano del Fabisogno, 80 nuovi posti letto a destinazione sociosanitaria, 40 per le RSA, 20 per le cure intermedie e 20 posti per le demenze. Per il territorio poi la Regione si impegna a ricercare adeguate soluzioni funzionarie e finanziarie con ANAS, Società Autostrade e Ministero delle Infrastrutture, per realizzare un principale asseviario alternativo alla strada statale adriatica che colleghi i sistemi urbani di Fano e Pesaro, agevolando così il collegamento con il nuovo ospedale unico previsto in località Muraglia. Infine, 20 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e Coesione Regionale verranno messi a disposizione dalla Regione al Comune per migliorare la viabilità esistente e confermare quanto previsto nella Convenzione siglata da Autostrade, Regione, Provincia di Pesaro Urbino e Comune di Fano sulle risorse stabilite per il nuovo svincolo autostradale.